È un'amministrazione che è incapace di programmare delle azioni solide che possono andare in funzione delle famiglie, dei nidi, dell'istruzione e dei diritti di tutti. Di fatto così vengono negati i diritti a tanti. Promette battaglia in aula il centro-sinistra del comune di Pescara. La Giunta ha presentato il nuovo regolamento comunale sugli asili nido, che nei prossimi giorni dovrà essere approvato in consiglio. Faremo il possibile affinché non passi, dicono dall'opposizione, perché vi sono elementi di incostituzionalità. Non è questo il modo di risolvere i problemi delle liste d'attesa, fanno sapere dal centro-sinistra, e anche le tempistiche sono sbagliate. Perché questo regolamento arriva solo adesso, quindi in questi giorni in consiglio, visto è considerato che sono già imminenti le aperture dei bandi e degli avvisi per le iscrizioni nei nidi. La seconda cosa è che ci sono molti elementi di incostituzionalità, perché sono tante le discriminazioni che si fanno. La prima è tra residenti e non residenti, attraverso l'istituzione di due graduatorie distinte. La prima graduatoria vedrà appunto soltanto i residenti di Pescara e verranno applicate anche tutte quante le tariffazioni secondo i modelli SEI. La seconda graduatoria invece verrà applicata indipendentemente, quindi non verrà più considerato di SEI, ma verranno applicate le tariffe massime. Ancora all'interno del regolamento, anche a livello di elementi organizzativi, c'è la creazione di fatto, o meglio l'istituzione, l'inserimento di una nuova figura professionale che l'organico del comune e dell'amministrazione adesso non ha. Perché noi abbiamo gli operatori all'infanzia, ma non abbiamo gli ausiliari all'infanzia che hanno competenze diverse e anche sono livelli professionali diversi. Per cui ci chiediamo allora all'organico che è attualmente in atto, che fine farà? Dove andrà a finire?